Sono quattro le giornate che mancano al termine di un campionato di eccellenza per certi versi entusiasmante. Per certi versi però, per altri condizionato da fattori esterni, vedi le sconfitte a tavolino che hanno regalato sei punti al Baronissi per dinne una e scombossolato i piani salvezza di diverse squadre. I palesi e loro arbitrali e le polemiche sorte ad esempio nell'ultimo turno per una presunta aggressione ai danni dell'allenatore Ambrosino, mister dell'Agropoli, prima del match Virtus Avellino-Agropoli con tanto di avvocati ed eventuali strascichi legali. In questo contesto si avvia la conclusione e la stagione, con il derby, il match più sentito che cade a quattro giornate dalla fine. Agropoli-Calpazzo in programma al Guariglia domenica, in un momento topico della stagione. Per continuare a inseguire un sogno già difficile per sé, l'Agropoli ha un solo risultato, deve vincere. Ogni risultato diverso, pareggio incluso, spegne le bellità playoff dei Delfini, visto che il Buccino in questo momento ha quattro punti di margine, ma non ha un match facile contro il Santa Maria la Carità. Di contro la Calpazzo a sua volta 5 punti di vantaggio sulla zona playout, e vincendo chiuderebbe il discorso salvezza al suo vantaggio. Ogni altro risultato tiene aperta ancora la porta playout, anche se un pareggio potrebbe essere oro colato nel computo finale della stagione. Purtroppo la Calpazzo a quest'ora doveva essere bella che salva, e sostanzialmente in vacanza, se non avesse fatto di tutto per complicarsi la vita in match point e partite alla portata, un po' per colpa sua, un po' per arbitraggi scandalosi. Match buttati all'aria che hanno assottigliato sempre di più, immagine di sicurezza sulla zona calda del campionato. Da queste premesse generali ne esce un match da non perdere, che la nostra emittente trasmetterà in diretta domenica con cambio di orario, ore 16, nuovo orario legale di fine stagione. Partita che richiederebbe, sottolineiamolo, richiederebbe, e si spera, una cornice al guariglia di pubblico delle grandi occasioni. Ad ogni modo desta interesse la sfida dei tanti ex presenti sul rettangolo di gioco. In primis il capitano Margiotta e Soldatino D'Avella, tornato ai suoi livelli e che scalpita e chiede spazio, e giocherebbe con una gamba sola contro la sua ex squadra. Di contro c'è un Agropoli che ha trovato nuova linferrimoli, per dirne una, ma sempre le idee le giocate dei vari onesto, Rabeni, Corrado, alle prese quest'ultimo però con problemi familiari. Giocatori che hanno testa e gambe per essere pericolosi in ogni momento. E non di chi identichiamo poi la sfida tra i due portieri, Romano e Cappamen. Romano per l'Agropoli e Cappamen per la Calpazio. Quest'ultimo calato un po' nelle ultime uscite per aver giocato, sottolineiamolo, sostanzialmente infortunato da quasi due mesi. E' incommiabile il ragazzo e dire poco. Nell'azzaretto generale degli infortuni della Calpazio è venuto fuori un altro grande ex, tale Asse Rechik, visto ad Agropoli, specie all'inizio, su ottimi livelli, calato man mano ma che non riesce a trovare più il passo di un tempo. Mimmo Maiese torna dove ha quasi regalato con i suoi compagni e con una stagione straordinaria la Serie D agli agropolesi lo scorso anno nell'era infante. Poi c'è lui, il guru della panchina, Santo Sosso, ha iniziato alla fine degli anni settanta e inizio ottanta e con la sua verve, la sua strategia e la sua voglia di vincere torna nella piazza Chiama, che lui stesso ha lanciato. Davanti a lui un tecnico giovane come Ambrosino. Insomma i temi ce ne sono, sono tantissimi, come c'è incertezza sul fuori dal campo per quello che sarà il prosieguo. Ad Agropoli si cerca una società nel vero senso tecnico del termine. A Capaccio si progetta il futuro che vedrà comunque grandi novità in entrata, ma sottolineiamolo anche in uscita. Insomma è light motif e uno solo, vincere per continuare a cavalcare l'onda e regalarsi un finale di stagione nel caso dell'Agropoli fino anche inaspettato. Vi aspettiamo, sarebbe uno spot domenica allo stadio per una festa di calcio che fa bene al Cilento e non solo.